In occasione del 150esimo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, la Fraternità dei Laici vuole dedicare un'attenzione proprio a questa figura, in particolare al tema della non violenza declinato nell'attualità del nostro mondo di oggi. Quindi non violenza soprattutto legata ai temi del rispetto dell'ambiente, un ambiente verso cui tanta violenza oggi stiamo usando. L'ambiente è la culla della vita, animale, vegetale e umana, in ogni parte e in ogni terra del mondo. Gandhi è nato il 2 ottobre del 1869, quindi sono passati 150 anni. Ed è giusto che la Fraternità dei Laici, insieme con la Proveressa Ganci, abbia proprio organizzato due lezioni affinché il pensiero, l'azione, ma soprattutto l'esempio e la memoria di questo grande personaggio possa ancora vivere e anche essere di esempio per le nuove generazioni. L'ambiente è la culla della vita, però come noi leggiamo nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, noi dobbiamo passare da una visione di ego a una visione di eco. La visione ego è quando l'uomo è al centro dell'ambiente e tutto è in funzione dell'uomo. Questa è una visione di egoismo ambientale, che porta sempre alla morte ambientale. L'uomo non è l'apice della natura, l'uomo è parte integrante della natura. Questa visione dell'uomo è al centro di tutto la natura, è una visione egoistica ed è una visione che porta anche a un inquinamento ambientale, ma vissuto e analizzato solo, sottolineo solo, in funzione dell'uomo. Non è così. Questa è un'ecologia superficiale. Mentre dobbiamo passare all'ecologia profonda, nel senso che l'uomo, ovviamente uomo e donna, fa parte integrante della natura. E quando c'è un inquinamento o una rottura dell'equilibrio ambientale, ciò comporta una morte dell'intera natura. Quindi la natura è Dio, la natura è creazione. Poi possiamo coniugarlo in vari modi, secondo la spiritualità e la religiosità. L'Andia aveva una sua religiosità, ma soprattutto aveva una sua spiritualità. E quella spiritualità è sistemica, interessa tutta l'umanità, a prescindere dalla religione di appartenenza. Quindi un esempio lungimirante di azione. L'India, in questo momento, nel ricordare i 150 anni della nazione fondata e evoluta dalla non violenza di Gandhi, ha preso una decisione. Ha sostituito tutti gli oggetti in plastica nelle ferrovie. Sono migliaia e migliaia di chilometri di ferrovie nello stato indiano. Nei vagoni e nei treni in India non c'è più la plastica, dai principi all'azione. Questa è la sintesi. La Fraternita ha voluto ricordare che uno dei fondamenti dello statuto stesso è quello della tutela ambientale. E così facendo recupera la memoria e testimonia un valore profondo, spirituale e religioso. La mano di Dio nella creazione. Lei tante volte anche ricorda l'attenzione al cibo, all'alimentazione. Anche qui la violenza dell'uomo oggi si manifesta proprio nel non rispettare più i tempi della natura. Non solo non c'è più il rispetto del ritmo biologico della produzione, ma tutto viene visto e vissuto e progettato in funzione della resa economica. Questa resa economica non sempre porta alla produzione di alimenti adeguati alla fisiologia dell'ambiente, degli animali e dell'uomo. Quindi la produzione agroalimentare estensiva ed intensiva, sia in campo sia nella stabilazione con gli animali, porta alla produzione di un eccesso di cibo solo in funzione di resa economica. Ciò comporta un danno dal punto di vista ambientale, perché la terra è sempre più spompata, questa terra è sempre meno fertile, e siccome è poco fertile, a questa terra si aggiunge sempre di più fertilizzanti per produrre. Ma poiché gli alimenti che nascono su questa terra, che non è più fertile perché è stata troppo sfruttata, questi alimenti sono poveri di nutrienti, e allora noi mangiamo alimenti poveri di nutrienti, perché nati da una terra povera di minerali e di altre sostanze organiche, e siccome mangiamo alimenti poveri di nutrienti, andiamo incontro in farmacia a prendere gli integratori, fertilizzanti sulla terra, gli integratori nell'uomo. C'è una situazione di grande confusione, per non dire proprio di un'aggressività ambientale e anche umana. Siamo di fronte a un deserto alimentare, e non lo vediamo. Sono giorni questi in cui bisogna fare una meditazione, ma consiglio, caldamente, a prescindere dalla propria spiritualità e religiosità, leggete, leggiamo l'enciclica di Papa Francesco, Laudato sì.